Benvenuti a questa edizione speciale di Mappamundi dedicata all'attentato a Mosca, al Crocus City Hall e vedete a fianco a me Orietta Moscatelli Ciao Orietta Ciao Alfonso, ciao a tutti Ciao Orietta, tu hai vissuto tanti anni a Mosca conosci molto bene quelle zone ma chi frequenta il canale ti conosce oggi abbiamo deciso di non mostrare i video però alcune immagini le mostreremo per capire quello che è successo facciamo una prima analisi ovviamente sulla stretta attualità ma insomma riepilogo brevemente ieri, insomma 24 ore fa proprio insomma nella serata di ieri quattro attentatori si sono entrati nel teatro in questa sala concerti dove doveva esserci un concerto dei picnic un gruppo storico russo e appunto hanno cominciato a sparare sulla folla qui li vedete mentre sparano e il panico all'interno della sala e poi la fuga di tutti quanti sono stati insomma circa 150 morti al momento ma insomma il bilancio è destinato a salire perché ci sono oltre 100 feriti insomma una vera tragedia poi il teatro è stato anche dato alle fiamme qui vedete appunto l'incendio poi sul tetto scoppiato successivamente riepilogo brevemente poi parleremo di tutto perché parleremo insomma delle varie situazioni ma qua vi mostro subito questa è la rivendicazione dell'Isis è stato appunto rivendicato dall'Isis Corazan poi diremo che cos'è che differenzia con l'Isis e perché agisce anche in Russia qui vedete sono stati fermati quattro Tajiki che andavano verso l'Ucraina nella regione di Bryansk appunto a sud ovest di Mosca appunto al confine con l'Ucraina gira questo video dove vengono bene interrogato insomma dice varie cose e questa è un po' la carta che useremo però ecco ti vorrei dare invece subito la parola anche perché poi nel frattempo nell'ultimo ora ha parlato anche Putin quindi poi parleremo ovviamente di tutte le teorie tutte le ipotesi che ci sono ma insomma a te subito la parola su questo attentato e quello che ha detto Putin sì allora Putin ha detto fondamentalmente che ha tracciato diciamo quel trattino che già aveva parecchi puntini accumulati insomma nelle ultime dodici ore tra attentato a Mosca e possibile sponda diciamo perlomeno in Ucraina in particolare ha fatto notare che gli arrestati che sono stati arrestati nella regione di Bryansk e parliamo del confine della vicinanza del confine sia con la Bielorussia che con l'Ucraina è quello che conta ovviamente nel discorso del cremerino è l'Ucraina ha detto che tentavano di dirigersi verso l'Ucraina dove secondo i primi dati le ricostruzioni quello che hanno potuto verificare gli inquirenti era stato predisposto l'ho detto un varco un varco da parte Ucraina per attraversare il confine e quindi completare la fuga allora abbiamo diversi elementi che sono chiari e sono tutti importanti inevitabilmente guardano tutti al quadro attuale che è quello di una Russia in guerra tra l'altro ieri dichiaratamente il cremino per la prima volta ha usato questa parola e non a caso ma che ci rimanda a elementi diversi che hanno una loro dignità diciamo geopolitica e anche politica in Russia da sempre la rivendicazione in particolare come tu già hai anticipato fa riferimento a questo ISIS del Levante ISIS con il Sun Stato Islamico ISIS-K che è una realtà che è stata rianimata se vogliamo dal ritiro americano dall'Afghanistan che si ripropone questo da sempre di creare un califato in Asia Centrale compresa l'Asia Centrale ex-Sovietica gli attentatori sarebbero Tajikistan è uno dei tre paesi insomma che comprendono il progetto di questo califato visto che ne stai parlando proprio appunto questa domanda ci è arrivata nei commenti appunto che fa anche un collegamento con l'Iran ed effettivamente insomma ricordiamo ISIS-Korasan l'obiettivo è di un califato che comprenda parte dell'Iran del Pakistan dell'Afghanistan anche dell'Asia Centrale quindi combattono sia contro l'Iran tra l'altro sono anche sospettati degli recenti attentati in Iran combattono contro i russi ovviamente hanno anche collegamenti c'è tutta una storia ovviamente di terrorismo islamico poi lo ricorderemo con il caucaso russo e ovviamente anche contro gli occidentali loro appunto come dicevi tu si comparvero insomma e fecero le prime operazioni più gradanti proprio durante il ritiro degli americani dall'Afghanistan perché erano contro l'accordo che avevano fatto i taliban con gli americani per il ritiro appunto americano quindi per questa ragione questo gruppo combatte i russi ma anche appunto gli iraniani e gli occidentali sì tra l'altro l'ISIS ha una partita ha un conto aperto con la Russia che è un conto importante insomma dall'intervento militare in Siria in giù e in su e alla domanda che oggi insomma inevitabilmente dobbiamo porci cioè perché l'ISIS oggi voglia organizzare posso organizzare in Russia un attentato cioè esiste l'ISIS in Russia allora non c'è come non c'è per tutto questa questa organizzazione ISIS-K una struttura con vertici centrali ma una sorta di mondo ISIS composto da gruppuscoli da predicatori da singoli da singoli una specie di franchising per cui la Russia importa per quello che abbiamo già detto Asia centrale è il pericolo di infiltrazioni aumentato dal ritiro americano dall'Afghanistan e Caucaso la parola chiave per la Russia rimane quando si parla di estremismo islamico il Caucaso che è una regione inquieta ribella ribelle da sempre che è pesantemente infiltrata dall'estremismo islamico soprattutto in Ingushetia e Dagistan oltre insomma alla solita Cicenia dove però il fedele fedele al cremlino Razan Kadyrov continua a garantire a Mosca una certa pulizia con i suoi metodi e modi le operazioni antiterrorismo russe in terra caucasica sono molto frequenti anche di recente ci sono delle cellule o semplicemente dei simpatizzanti o potenziali affiliati a Mosca e a San Pietroburgo in particolare che sono facilmente arrolabili l'interrogato che quando viene interrogato e quando dice non sappiamo quanto liberamente o quanto ispirato di averlo fatto solo per soldi di aver ricevuto un mezzo milione di rubli che poi insomma non è che sia poi così tanto fanno parte di quel sottosuolo in Russia che è composto da immigrati numerosissimi e anche importante adesso perché è mano d'opera mano d'opera aggiuntiva dall'Asia centrale che sostituisce i giovani russi che sono che sono in guerra e che sono facilmente reclutabili che per pochissimo possono essere disposti a fare tanto tra l'altro l'interrogato cita un predicatore dice ho parlato col predicatore non mi hanno detto niente mi hanno contattato per Telegram non so chi sia allora per Telegram ti può contattare l'Isis ti può contattare chiunque insomma diciamo diciamo la verità però proprio questo è il contesto della delle un sottosuolo composto da demoniti che vivono abbastanza in margiri che fanno riferimento appunto a questi a questi predicatori e che e in cui i taggichi sono una grande insomma una grande porzione oggi si stima che ce ne siano circa 400.000 addirittura registrati quindi in Russia e sono concentrati nelle grandi città Mosca e soprattutto San Pietro quindi qui rispondiamo a Massimo che dice appunto erano del taggichista non del caucaso sì però come dicevamo hanno sfruttano c'è anche una comunanza di intenti nel mondo islamico russo no? perché tutte queste immigrazioni non solo dal caucaso ma anche dal taggichista come dicevi ovviamente ha dei collegamenti in Russia io qui ho preso questa vecchia carta di Limes dove però vedete c'è esattamente questa numero uno questa appunto infiltrazione jihadista verso Mosca ci sono anche anche altre ho aggiunto questo collegamento mi scuserà Laura Canali che è l'autrice di questa carta il collegamento che vedete verso il Tajikistan che è sempre stato un paese no? chiave anche nei rapporti con l'Afghanistan sia durante l'invasione russa in Afghanistan sia successivamente con i taleban insomma davvero sì le cose sono assolutamente collegate infatti la carta insomma che tu hai manipolato sì e ho aggiunto anche mi scuso ancora no Laura scuserà il cerchio quello che vedete è nero a sud ovest appunto di Mosca la regione di Briansk dove sono stati appunto catturati regione che ha confini appunto con l'Ucraina e questa carta era stata fatta proprio anche per spiegare con il ritiro americano dall'Afghanistan quale diventava il problema perché dall'Afghanistan c'era già da tempo un rientro di componenti islamiste verso le repubbliche centroasiatiche Tajikistan in particolare in particolare e quindi diciamo con la defizione americana quello diventava un concreto un concreto problema ricordiamo anche che questo in qualche modo è stato un attentato in termini di estremismo islamico annunciato all'inizio di di marzo Mosca ha fatto sapere di avere smantellato nella capitale russa una cellula dell'isis all'epoca insomma è passato e poi c'è il 7 marzo appunto l'ambasciata americana e russia aveva ha dato un allarme su un possibile attentato di origine islamica assolutamente le cose sono collegate proprio quell'allarme quell'allerta americana gli americani poi seguiti da Gran Bretagna e tutti i paesi occidentali compresa l'Italia tra l'altro l'Italia in qualche modo forse più lungimirante o semplicemente più cautelativa mentre gli Stati Uniti dicevano 48 ore il 7 marzo dicevano 48 ore di allerta evitate raduni compresi concerti la nota italiana era nelle prossime settimane evitate raduni e quant'altro e quella nota viene diramata proprio sulla base della notizia dello smantellamento di questa cellula Isis a Mosca avvertimento che ieri è sembrato a molti un annuncio che è diventato anche una questione di botta e risposta piuttosto piccata tra Washington e Mosca perché da Washington si sono subito affrettati a dire non c'è motivo di pensare che la matrice dell'attentato sia ucraina e il ministero degli esteri russo ha immediatamente replicato se gli americani sanno qualcosa devono passare immediatamente le informazioni se non lo sanno possono anche evitare di fare supposizioni di dare conclusioni che ancora non possono essere tratte oggi a Mosca stanno controllando i passaporti di tutti i centroasiatici e tra l'altro questo è un altro problema non da poco insomma perché essere un immigrato dal centro Asia oggi a Mosca diventa un problema e anche in passato questo problema poi è sfociato in momenti di intolleranza e anche di violenza allora poi ovviamente quello che a noi interessa sono le conseguenze politiche geopolitiche di questo atto che insomma affronteremo però per dovere di cronaca insomma parliamo un po' delle varie ipotesi subito insomma a parte che sono già partite una serie di ricomplotto vedo che anche nei nostri commenti sono partiti con queste idee un po' così vabbè oggi non non moderiamo quindi vabbè lasciamoli questi commenti però insomma per capirci allora i russi accusano l'Ucraina anche avendo confermato che sono taggichi eccetera eccetera però sostanzialmente dice appunto c'era una collaborazione con l'Ucraina l'Ucraina da parte sua dice che invece no non c'entra nulla con questo attentato anzi secondo anche fonti del governo ucraino sarebbero fatti da soli i russi per appunto accusare l'Ucraina e poi l'ipotesi è immagino siccome si parlava di una mobilitazione dei russi per una nuova offensiva russa in Ucraina per come dire per dare un'ulteriore motivazione diciamo motivazione alla popolazione di sentirsi attaccato e così far passare la mobilitazione la mobilitazione ovviamente c'è poi la terza che invece l'abbia fatto l'Isis Corazan di sua iniziativa perché voglia ricordare anche a Putin appunto che la questione islamica in Russia e in Asia centrale perché in questa fase lo vediamo anche in altre regioni tutti i soggetti anche medio piccoli stanno cercando come dire di prendersi il loro spazio perché hanno capito che le grandi potenze sono in una fase di difficoltà gli Stati Uniti per le cose che sappiamo abbiamo parlato in altre trasmissioni la Russia per la guerra in Ucraina la Cina per altre regioni quindi si apre uno spazio sapete in geopolitica come in politica non esiste il vuoto quindi si apre uno spazio dove poi si inseriscono queste operazioni e fa parte diciamo sarebbe parte della loro della loro attività a questo punto non so se sei d'accordo c'erano anche domande su questo c'è anche una lunga tradizione diciamo di attentati a Mosca ce lo richiamavano un po' allora io ricordo poi insomma tu competerai che fin dall'inizio in realtà tutta diciamo la fase al potere di Putin è caratterizzata anche da una serie di attentati a Mosca fin dall'inizio quando lui era primo ministro nel 99 ci furono quegli attentati ai palazzi di Mosca e che poi diedero via la guerra in Cecenia con cui Putin la storia della guerra in Cecenia fu quello che diede il maggiore sostegno popolare a Putin si presentò come uomo forte quello che risolviva i problemi dopo gli anni di crisi di Yeltsin e poi sicuramente c'è stato la Dubrovka che forse era l'attentato più vicino a questo del 2002 dove appunto ci fu l'intervento per cui morirono tutti gli attentatori ma anche molti degli ostaggi Beslan nel Caguas ovviamente e poi altri ancora fino al 2017 a San Pietroburgo gli attentati nella metropolitana tu te ne ricorderai sicuramente altri però voglio dire ci sono insomma sì c'è una lunga storia e credo insomma continuerà di attentati in Russia in buona parte di matrice islamica ma anche quello perché il problema insomma esiste è un problema geopolitico politico e di tanti altri tipi ma e sono non so se hai citato nella tua già sostanziosa lista il tentato l'attentato Kamikasa all'aeroporto di Domodiedevo del 2011 che è stata l'ultima azione grossa rivendicata proprio dall'ISIS da cui insomma oggi le domande ma perché oggi l'ISIS dovrebbe rispuntare la testa in questa insomma con questa forza in Russia sono tutti attentati con delle zone d'ombra quelli del 99 con questi palazzi che crollano Mosca nel sud della Russia che sono alla base poi della teoria mai chiarita e mai scomparsa di una partecipazione dei servizi segreti per poter poter lanciare appunto la OPA sullo stato russo e lanciare Putin verso la presidenza come poi avviene e Putin arriva al potere dicendo famosa frase anche famosa perché inaugura un certo modo di parlare del nuovo leader russo daremo la caccia ai terroristi fino nei cessi poi in realtà anche di recente e anche da parte americana quegli attentati attribuiti spesso ai servizi russi sono stati dichiarati oddio non è che i servizi siano stati del tutto scagionati ma anche da parte americana si dice che non ci sono prove e che c'è motivo di pensare che fosse piuttosto opera islamista sono tutti attentati con delle zone d'ombra legati anche che è un altro tratto comune è quello di aver avuto delle incredibili delle incredibili falle nella sicurezza talmente incredibili da poi alimentare delle teorie che visto che non può essere debbono essere state organizzato sempre nel 2004 altri attentati clamorosi poi dimenticati molto in fretta gli attentati aerei precipitano due aerei a bordo delle donne caucasiche con cinture esposive che vengono fatte entrare a bordo con delle cinture esposive ovviamente senza verificare da un'entrata secondaria per un po' di soldi quindi queste falle nella sicurezza sono spiegabili in tanti modi complessivamente rimangono inspiegabili ma un mix di corruzione inefficienza inefficienza in questo momento in particolare è vero che Mosca è presidiatissima è vero che ovunque vai a Mosca devi passare attraverso un metal detector e sembra che i metal detector non funzionassero in questo auditorio che contiene oltre può contenere oltre 6.000 persone e che non controllassero neppure le borse ovunque tu vada oggi a Mosca devi passare attraverso un metal poi comunque ci sono dei video che fanno vedere che poi loro sono entrati già sparando quindi in realtà comunque il metal detector non sarebbe servito hanno ucciso subito le guardie comunque si l'hanno fatto molto scoperto quindi molto scoperto approfitto anche diamo completezza di informazione secondo i russi alcuni questo logo del Isis Kurasan non è quello attuale uno vecchio quindi questo ha creato ulteriori sospetti però insomma io non vorrei inseguire un po' tutte queste teorie perché ovviamente il cortocircuito qual è? il cortocircuito che noi sappiamo che ogni evento che succede che viene usato in chiave politica ovviamente ogni parte ogni soggetto geopolitico cerca di approfittare degli avvenimenti per la propria agenda per i propri obiettivi per i propri i propri fini quindi poi si crea il cortocircuito ecco se lo sono fatti loro perché volevano fare questo questo in realtà a punto di vista strettamente logico non è dovuto perché appunto succede quella cosa io cerco poi ovviamente i russi per esempio adesso sfruttano la cosa indipendentemente da chi se la sia stata fatta comunque la sfrutteranno in funzione anti-Ucraina quindi ecco io vorrei passare con te un po' a parlare delle conseguenze cioè il fatto è avvenuto ci saranno sicuramente no delle conseguenze e allora intanto volevo scusami intanto vedo qualche commento qui volevo rispondere sì abbiamo detto prima l'Isis Khorasan agisce anche in Iran perché l'obiettivo è quello di creare un grande califato dall'Iran sì è una macro regione in realtà è una macro regione e combattono tutti sono contro tutti cioè contro gli iraniani i sciiti in particolare ovviamente e una cosa scusami Alfonso una cosa che vale molto per la Russia forse in modo estremo ma che vale per tutta insomma l'area di competenza così diciamo di attività dell'Isis Khorasan è che gli esperti gli esperti e i studiosi di questi movimenti ci dicono che non c'è più una struttura verticale quindi non ci sono dei vertici non c'è una gerarchia vera e propria ma ci sono tanti gruppi regionali che fondamentalmente aderiscono ad una agenda comune ma che poi agiscono in base alle possibilità e alle opportunità in modo piuttosto indipendente senti intanto volevo ricordare un paio di cose Antoinato ieri ho visto qualche tua partecipazione delivisiva in cui prima delle ringrazioni delivis insomma accennavi alla pista islamica e quindi insomma complimenti perché diciamo che era abbastanza bastava mettere assieme alcuni puntini nell'ultimo mese partendo appunto da quella cellula smantellata passando per l'allerta americana tra l'altro da sottolineare perché è importante dirlo oggi che di fronte a questo allarme lanciato dall'ambasciata americana Putin si è anche pubblicamente quasi irritato ha detto questo è un modo di ricattarci di intimidirci ma noi siamo uniti siamo forti non accadrà niente insomma e poi un paio di settimane dopo accade quindi l'ombra l'ombra dell'Isis era abbastanza evidente guarda allora intanto parliamo un po' delle conseguenze chiunque insomma sia stato insomma che sia stato l'Isis mi sembra abbastanza poi è chiaro che magari questo gruppo potrebbe essere stato utilizzato e sfruttato da chiunque in questa fase non possiamo escludere nulla ovviamente possiamo fare solo delle ipotesi però ragionare sulle conseguenze sì allora Alessandro ci chiede quanto questo atto terroristico danneggia Putin e quando invece lo aiuta ricordiamo tutti la Cecenia i primi passi dello Zaretto sì questo abbiamo ricordato eccetera però ecco allora aiuta Putin può essere utilizzato questo da Putin in funzione anti-Ucraina o invece lo danneggia come uomo forte della sicurezza il popolo russo insicuro nonostante sia lui a comando insomma ecco che ne dici entrambe le cose come spesso accade in Russia soprattutto in una condizione in una situazione come questa dove la guerra in Ucraina è sovrastante è proprio diciamo il titolo il titolo il titolo che non che non passa di qualsiasi evento tutto fa riferimento alla guerra in Ucraina e viene ricondotto alla guerra in Ucraina ed è per questo che la pista insomma dell'attentato organizzato dagli stessi servizi o dagli stessi russi per avere mano libera in Ucraina è debole perché implica un prezzo alto da pagare per il crimine o per Putin perché significa debolezza significa avere permesso non essere stato in grado di prevenire un massacro non è centro di Mosca ma insomma non è tanto fuori Mosca e il prezzo di questo buco nella sicurezza che viene da sempre promessa che è il biglietto da visita da un quarto di secolo di Putin sarà pagato sarà un pagamento così a rate che non si cancella perché oggi oggi prevale e questa è un'altra reazione automatica dei russi di cui prendere nota prevale il compattamento di fronte di fronte al pericolo e cosa aspettarsi cosa aspettarsi ora il criminio lo sfrutterà certamente perché già facendo il collegamento come ha fatto Putin che è stato molto cauto all'inizio nella notte dopo qualche ora ha mandato un messaggio tramite una collaboratrice insomma non è stato proprio una presenza così imponente fino ad oggi quando ha detto quello che abbiamo ricordato ha detto cosa aspettarsi ora ma quello che in realtà ci potevamo aspettare ieri pomeriggio prima dell'attentato perché ieri appunto ora ci ho accennato ci torno è accaduta una cosa parecchio importante nella anche nella liturgia linguistica della della guerra ieri il portavoce di Putin che ha Demetrio Pescov ha detto la Russia è in guerra e devono capirlo tutti tra l'altro quel tutti si riferiva dichiaratamente ai russi dicendo questo serve per la mobilitazione interna allora un paio di ore dopo un sito indipendente tra l'altro per niente pro Cremlino ma con delle buone entrature e questo ci dice piccola parentesi che dentro a Cremlino poi ci sono anche le voci che mandano fuori un po' ad arte e un po' anche per dare fastidio certe certe informazioni che la Russia intende mobilitare almeno 300.000 uomini con l'obiettivo di conquistare Tarkiv e quindi questo sarebbe una nuova mobilitazione di cui si parla già da prima delle presidenziali dicendo incassato il previscito Putin lancerà una nuova mobilitazione in realtà la mobilitazione in modo diciamo un po' surrettizio no? carsico non è stata mai interrotta di una mobilitazione seppur parziale ma consistente dopo le elezioni si parla da tempo d'altronde cosa ci dobbiamo aspettare la prima risposta è quello che ci dobbiamo aspettare una nuova offensiva russa che poi forse è già cominciata per il momento in modo piuttosto contenuto e in diritto lento e che con la primavera avanzata quando le condizioni meteorologiche e quando la concentrazione di truppe che già insomma si sta organizzando e l'arrivo di questi eventuali nuovi 300.000 uomini riservisti per ora ma che potrebbero essere chiamati questa controoffensiva si intensificherà con con l'obiettivo da parte russa di conquistare altre porzioni di territorio di mettere in sicurezza i territori che ha occupato nel sud e sud-est della Russia quindi il Donbass e le regioni di Zaporizia e di Kherson dove tra l'altro si è votato dicendo capitolo chiuso ma il capitolo va chiuso la parte russa ancora non lo è e questo scenario potrebbe auspicabilmente insomma puntare ad una ad una fase poi magari negoziale che la Russia vuole e può affrontare dal suo punto di vista solamente con una posizione di netta forza forse questo accadrà ci sono molti segnali anche da in una qualche forma di apertura americana e nelle dichiarazioni quotidiane ad esempio nelle dichiarazioni della Casa Bianca quando si parla di Ucraina e di vittoria Ucraina sono di recente scomparsi i riferimenti al recupero della totale integrità sovranità territoriale rispetto all'occupazione russa non è non è un dettaglio e questo sempre che non insomma che non prevalga a un certo punto l'idea macroniana di inviare delle truppe occidentali però sinceramente mi pare parecchio difficile quanto meno prima che si arrivi a un congelamento del conflitto allora intanto scusa cercavo la carta sulla nuova Russia 2.0 che avevamo pubblicato all'inizio della guerra non l'ho trovata mi dispiace mi scuso dove appunto c'era un po' l'obiettivo di Putin e della Russia era quello oltre insomma a questo 20% che è al controllo adesso ovviamente la Crimea che è la cosa più importante per i russi e i russi lì c'era appunto Odessa che abbiamo sempre detto no era zona chiave strategica e anche Kharkiv che è la seconda città dell'Ucraina in passato ha fatto parte della Russia e quindi insomma erano questi un po' gli obiettivi anche iniziali quindi ecco dopo è molto strategica anche nell'ottica di questo cioè il litorale sotto è diciamo la parte di accesso diretto alla Crimea a cui la Russia certamente non intende non intende rinunciare mentre Kharkiv è parte di quel cuscinetto che permetterebbe anche di dire nel concetto di una vittoria dal punto di vista territoriale abbiamo creato una zona che ci distanzia che allontana la Nato dai nostri territori poi dal momento che tu li dichiari i tuoi territori insomma il concetto è un pochino tendente al cortocircuito ma nella nella narrazione russa questo ha senso vabbè vedevo un po' di commenti insomma solite teorie ipotesi un po' così l'ISIS in genere si immolano sul posto beh no ci sono stati sì tanti attentati kamikaze con esplosivi ovviamente ma anche no insomma anche no e soprattutto insomma da quello che abbiamo visto insomma di questi presunti attentatori tra l'altro avendo agito insomma a volto scoperto credo che si arriverà presto a mettere assieme le tesserine e a confermare o meno in modo preciso l'identità tra gli arrestati e gli attentatori e poi c'è il c'è il fatto che insomma se guardiamo ci sono ampie traduzioni no sui social di questo interrogatorio con questo questo giovane Tajiku che trema e tu capisci veramente che si tratta di manovalanza io non collegherei troppo l'idea di un'azione ISIS Daesh con degli con degli obiettivi strategici a l'azione concreta di figure certamente di di basso livello e che lasciano intendere dicono e c'è anche basta credere di avere agito senza particolari insomma senza particolari coscienze di quello che poi sarebbero andati a fare una delle frasi è mi hanno detto che dovevo uccidere chi doveva uccidere la gente la gente qualunque si qualunque allora veramente da prendere con le pinze perché una confessione con attorno una serie di militari russi mimetica insomma la situazione di pressione e il pensiero del cosa dico qual è la meno peggio cosa da dire credo che sia insomma necessariamente un criterio dottorneramente vabbè insomma dai tutta l'informazione Mestim sta cercando tenacemente di scagionare completamente chi è per propaganda lo stato pur allora a parte che noi non è che facciamo analisi per scagionare uno o l'altro abbiamo detto tutte le ipotesi sono ovviamente aperte magari ci sta pure che gli ucraini abbiano manipolato usato una cellula dell'isis per fare questo attentato però insomma non facciamo teorie del complotto ragioniamo però diciamo conviene all'Ucraina questo attentato qual avrebbe che senso possiamo fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto con riguardo Putin da una parte chiaramente conviene nel senso che qualsiasi situazione di emergenza in Russia automaticamente è un punto a favore per Kiev ma allo stesso tempo non conviene perché chiaramente le conseguenze se ci dovessero essere delle prove comprovate o comprovabili potrebbero essere veramente enorme quanto può essere vera la pista ucraina ma allora sembra una fase fatta ma sinceramente tutto può essere a parte che siamo ancora abbastanza di indagini fresche le indagini da parte russa chiaramente non è che vengono poi rivelate nei dettagli chissà se mai questo avverrà però tutto può essere in particolare può essere anche che l'Ucraina possa essere stata la meta di fuga di questi attentatori fuga tra l'altro disperata perché è ovvio che lasciamo stare le tante falle nella sicurezza insomma dimostrate ovvio che le strade verso l'Ucraina e nelle ore in cui questa reno bianca si è avvicinata al confine belorusso-ucraino erano super pattugliate super pattugliate quindi fuggire insomma era un'impresa forse ancora più difficile rispetto a quello di entrare in una sala concerti e cominciare a sparare all'impazzata ma da qui a dire che il mandante sta a Kiev ce ne vuole proprio perché sarebbe un'azione che tra l'altro creerebbe una frattura una frattura rispetto agli Stati Uniti in particolare ma anche al mondo occidentale che comunque insomma sostiene sostiene la guerra ucraina anche quando l'Ucraina colpisce oltre colpisce oltre il confine russo dicendo sono legittimi obiettivi ma non l'idea di prendere di mira direttamente dei civili tanto meno dei civili radunati in massa tra l'altro è di ieri o comunque insomma recentissimo questo articolo del Financial Times in cui si rivela che gli Stati Uniti avrebbero chiesto agli ucraini proprio di interrompere i bombardamenti trasfrontalieri quelli sulla regione di Belgoro dall'invio di droni in massa su quella stessa regione di Bryansk di cui oggi parliamo per la fuga degli attentatori e poi stanotte in realtà credo che insomma stamattina il primo bollettino della difesa russo parlava di 15 droni sono sempre abbattuti ma insomma abbattuti su almeno 5 regioni quindi non è cambiato niente nelle ultime 24 o 48 ore ma sì l'ultima cosa è ricordiamo e anche loro hanno preso la distanza insomma da queste da questa azione terroristica che ci sono questi gruppi di paramilitari composti anche da russi che combattono insomma con l'Ucraina la legione Russia libera il corpo volontario russo poi c'è il battaglio nel siberiano ma insomma almeno due di questi i primi due hanno preso le distanze dicendo noi non attacchiamo i civili sono gruppi composti non solo ma anche da transfughi russi che vengono armati tra l'altro all'interno di questi gruppi ci sono anche dei russi musulmani quindi non russi di nazionalità ma russi di cittadinanza e tutte queste dichiarazioni ci dicono sottintendono insomma all'enormità delle possibili conseguenze che potrebbero derivare dallo scoprire che tutto è stato organizzato in Ucraina quindi sinceramente mi sembra piuttosto improbabile eh sì intanto sono mostrato questo commento sono d'accordo infatti non è la questione complotto meno è che come questi eventi vengono poi utilizzati anche qui sì carissimi la storia è piena di complotti certo pieni di tentativi di complotti ma il problema è proprio quello che realizzare i complotti è molto molto difficile come insomma chi opera insomma ricordiamo l'attentato alla figlia di Dugin che aveva subito fatto fatto scattare le teorie di complotto che tra l'altro insomma a Mosca sono molto amati i russi sono assolutamente specialisti in materia di complottismo tutti i diplomati anche se sono nella scuola guiderei insomma assolutamente il discorso complotti eccetera ti volevo chiedere una cosa abbiamo parlato diciamo del fronte ucraino del fronte russo eccetera ma invece sul fronte proprio dell'Asia centrale cioè entriamo un po' in questo tema questo attentato ricorda Putin anche le difficoltà di una Russia cioè distratta impegnata sul fronte ucraino anche con un rapporto particolare complicato con la Cina parliamo un attimo dell'Asia centrale cioè non rischia di lasciare una Russia molto debole in questa area che è molto in quest'area geopolitica molto molto importante per la Russia no? l'evitato dell'Unione Sovietica ovviamente in l'Asia centrale però ecco non è che Putin e la Russia stanno un po' dimenticando l'Asia centrale e il Caucaso che sono sempre problematici per la Russia? Beh certamente la Russia è distratta da tutto quello che non è Ucraina perché implica uno sforzo bellico ma non solo bellico insomma uno sforzo diplomatico economico enorme quindi che una delle conseguenze geopolitiche della guerra in Ucraina sia un indebolimento sull'altro versante insomma su quello orientale della presenza russa è assolutamente ormai una cosa assodata e in particolare nell'Asia centrale subentra è già subentrata la Cina già da molto tempo ma di recente c'è stato il sorpasso proprio in termini di rapporti commerciali come presenza economica certamente non ancora questo sorpasso non c'è in termini di sicurezza perché la Russia per l'Asia centrale è stata e rimane un garante securitario perché ha delle presenze militari perché fornisce armi ma è un ruolo che nulla insomma impedisce che un po' la volta venga insidiato insidiato a sua volta dalla Cina e anche dalla Turchia la Turchia cosa ha fatto è entrata in modo massiccio invece nel Calcaso nella questione tra Azerbaijan e Armenia per il Nagorno Karabakh è probabile o comunque non possiamo escludere che senza l'indebolimento della presenza insomma in queste regioni e della possibilità anche di giocare di giocare diplomaticamente la Russia la Russia la vicenda del Nagorno Karabakh non sarebbe finita a favore del Nagorno scusate a favore dell'Azerbaijan con l'aiuto della Turchia in modo così veloce anche se nella diciamo nella riconquista nel recupero del Nagorno Karabakh da parte dell'Azerbaijan c'è anche una quiescenza russa che da una parte è debolezza o comunque non poter fare di più certamente in questo momento e non volersi inimicare la Turchia con cui insomma intrattiene dei rapporti articolati che riguardano molto l'Ucraina molto il Medio Oriente ma c'è anche un progetto di lunga data della della Russia di volere in qualche modo normalizzare la situazione nel Caucaso meridionale per aprire o per facilitare delle rotte commerciali e delle rotte che diventano la cosiddetta corridoio nord-sud cioè mar baltico San Pietroburgo Mosca e giù fino al Caspio che diventa imprescindibile dal momento in cui la guerra in Ucraina preclude alla Russia altre rotte invece che implicano in passaggio in Europa occidentale quindi sì c'è un punto nella puntata sull'India con l'orezzo di muro ve la segnalo la trovate sul canale insomma che è appunto l'altra strada che interessa la Russia per arrivare appunto fino all'India scusami ma volevo ricordare questa cosa perché magari ci sono tante persone che ci vedono per la prima volta è un argomento molto interessante e che è l'inizio di qualcosa e che riguarda in termini russi molto il rapporto con la Cina che messo in vetrina è un rapporto scintillante e proiettato verso ulteriore cooperazione ma che in realtà è una relazione che preoccupa moltissimo le elit russe io oserei dire anche lo stesso Vladimir Putin anche se lui in questo rapporto diretto con Xi Jinping trova delle motivazioni per dire anche ai suoi lo possiamo gestire lo possiamo gestire non diventeremo questa no questo junior partner questa dependence produttrice di di materie energetiche di materie prime per la Cina ma è una relazione che che preoccupa assolutamente perché la cesura che si è creata insomma tra occidente ma soprattutto tra Europa e Russia dal punto di vista energetico oltre che dal punto di vista insomma politico dal punto di vista proprio di questo rapporto complementare economico che c'era prima ma ha reindirizzato la Russia verso est e si stanno creando dei vincoli che a un certo punto diventerà molto difficile rescindere anche se proprio in questi giorni parlavo con alcuni esperti in particolare di questioni di questioni energetiche c'è in qualche modo una forma di riequilibramento in corso perché la Russia è riuscita a livello di export e quindi di vendita di materie prime a crearsi un portafoglio abbastanza diversificato molto asiatico ma insomma non compra solo la Cina compra l'India comprano tanti altri paesi per cui la diversificazione sta togliendo alla alla Cina quel vantaggio di comprare a prezzi super scontati e questo per la Russia è estremamente importante non solo dal punto di vista economico ma proprio dal punto di vista geopolitico allora intanto insomma per chi da me è incuriosito anche un po' il Crocus City Hall no? questo insegna in stile molto occidentale insomma per ricordare come appunto nonostante la guerra il grande nemico la distanza con l'Occidente poi alla fine rimangono queste cose anche a Mosca eccetera in particolare il Crocus insomma per chi fosse interessato è questo fiore che è un appunto zafferano selvatico che a volte viene confuso con lo zafferano diciamo normale la caratteristica appunto cresce in primavera anche dove c'è la neve penso che questo probabilmente no? colpisce molto l'immaginario russo questo fiore insomma si che osa sfidare osa sfidare si perché ho capito bene insomma tu hai visto tanti anni a Mosca mi pare che sia un fiore abbastanza non so anche delle mosse delle fiere di questo fiore insomma si i fiore sono immanenti onnipresenti in Russia non puoi fare praticamente niente senza scusa mi sono ricordata anche l'attentato di Domodevodo l'aeroporto cioè tu hai anche un'esperienza personale lì o sbaglio? sì ho un'esperienza personale insomma perché ero a Mosca quando ci quando ci fu quell'attentato e per questione insomma così per un'emergenza in Italia io dovetti rientrare dovevo rientrare proprio nel giorno dell'attentato quindi andai all'aeroporto che era che era ancora praticamente blindato sono stata poi reindirizzata in un altro aeroporto perché cambiavano continuamente cambiavano continuamente i voli e quant'altro e effettivamente c'era un dispositivo un dispositivo di sicurezza estremamente capillare ma che era chiaramente mirato al diciamo al volto non europeo e piuttosto ai tratti arabi o ai tratti asiatici per cui venivano trattenuti per ore portati scomparivano davanti insomma chiunque avesse appunto il volto non russo io che non ho volto russo insomma cosa però sono passata poi alla fine in pochi minuti però erano anni in cui per la Russia ancora nel 2011 anche insomma se la grande emergenza era passata per la Russia l'incubo del terrorismo si era trasformato da quello che era l'incubo del caucaso del caucaso in terrorismo globale l'isis più di una volta ha emesso comunicati anche quando ormai l'attività del insomma dello stato islamico era chiaramente in recessione ha emesso dei comunicati per dire che la Russia rimane paese nel mirino in quanto paese cristiano che fa la guerra all'isis Putin rivendica come frutto insomma dell'intervento militare in Siria l'indebolimento definitivo e la disgregazione del progetto statuale o comunque territoriale dell'isis l'intervento russo in Siria senza la necessità di dovere difendere la presenza russa nel Mediterraneo orientale quindi la base di Tartus probabilmente non ci sarebbe stato ma un'altra se non altrettanto ma molto importante ragione di quell'intervento fu il volere sigillare in qualche modo comunque contenere il pericolo concreto che dalla Siria e dal Medio Oriente risalisse verso il caucaso russo la minaccia estremista e all'inizio delle grandi stragi anche delle esecuzioni se ricordiamo di cristiani in Siria questa sorta di tribunali improvvisati che poi tagliavano che finivano col taglio della gola dei prigionieri ostagi di turno erano spesso pronunciati con degli accenti marcatamente caucasici ceceni in particolare allora guardavo un attimo un po' i commenti e vabbè no questo è offensivo sembrate felici dell'attentato a Mosca allora intanto non siamo felici di niente stiamo cercando solo di analizzare la situazione ovviamente ho messo blocco subito Morris e va bene non sono riuscito a bloccare tutti quelli che numerizzavano scusate troverete un po' un po' di messaggi così nella chat Cesare ha ragione a leggere la chat il lavoro di me sembrerebbe inutile speriamo di no ma comunque chi commenta ovviamente non sono tutti gli spettatori lo sappiamo benissimo anzi presenza di troll insomma e altri va bene però ecco mi fa piacere anche allora ringrazio Marco che ci segue sempre con attenzione per i complimenti ci sono altri Antonia insomma altri ancora vi ringraziamo per come per tante persone che tra l'altro stanno seguendo questa diretta non so se abbiamo dimenticato qualcosa se voglio raggiungere qualcosa Orietta ormai ci sono tante cose di cui si potrebbe parlare ma io credo che è importante fare un primissimo punto per cercare di inquadrare la soluzione non si vuole assolutamente fornire delle letture come questo è accaduto e questo vuol dire ma degli elementi che poi servano a leggere a leggere anche nei prossimi giorni gli sviluppi che ci saranno e che al di là del bilancio davvero insomma tragico altro che contentezza che è destinato a salire di sviluppi ce ne saranno tanto e quindi insomma credo che abbiamo fissato alcune cose che poi torneremo ovviamente con te periodicamente parliamo di Russia sul canale quindi intanto vi invito ad ascoltare le trasmissioni con Arietta già che avete sul canale insomma e poi altre seguiranno io vi voglio ricordare che in Edicola trovate il volume di Limes una certa idea d'Italia in libreria in Edicola ma anche per gli abbonati digitali sul nuovo sito di Limes c'è anche la nuova app vi invito a scaricarla perché è un modo insomma per seguire e starci vicino se vi è piaciuta questa trasmissione ovviamente iscrivetevi al canale che è un modo per sostenere il nostro canale ricordo anche il libro di Orietta Putin e Putinismo in guerra che è utile insomma non è solo un libro sull'attualità insomma vi dà il contesto e vi dà tutti gli elementi appunto per capire quello che sta succedendo in Russia e vi ricordo anche la scuola di Limes ormai insomma i 25 si chiudono le iscrizioni siete iscritti già in tanti vi ringraziamo il corso partirà ad aprile spero di non aver dimenticato nulla e Orietta grazie grazie del tuo tempo che insomma hai dormito poche ore perché da ieri sei stata impegnata su questo fronte quindi ti ringrazio molto più del solito del tempo insomma che ci hai dedicato grazie a voi e speriamo insomma di poter recuperare nelle prossime ore comunque grazie ciao al flusso e ciao davvero a tutti grazie e arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a tutti